Noleggiavano auto a lungo termine, intascando la caparra e non consegnando mai i veicoli ai clienti. E questo in sintesi il sistema messo in piedi da un 34enne san salvese già noto alle forze dell'ordine e con il quale ha truffato ben oltre 60 persone in tutta Italia. I carabinieri della compagnia di Vasto, nell'operazione denominata Ghost Car, hanno denunciato 14 persone ed eseguito sequestri per un valore di circa 500 mila euro. Tra i beni posti sotto sequestro, due appartamenti, uno a San Salvo e uno a Montenero e un'officina meccanica sempre nel comune molisano. Ecco come agiva il sodalizio criminale. L'attività nasce nel marzo del 2020, quando un gruppo di persone con a capo un soggetto noto già in passato alle cronache locali, inizia a promuovere, a millantare, a simulare un rapporto di partnership con l'ALD Automotive, che è uno dei colossi nel settore del noleggio long term dei veicoli, predisponendo tutta una serie di contratti assolutamente analoghi a quelli originali, predisponendo dei portali di accesso con credenziali di accesso all'uopo realizzate. Tutto questo per rendere naturalmente più credibili le operazioni commerciali. Intascavano poi dopo gli importi degli acconti, importi che variavano in funzione del veicolo selezionato dal cliente. I veicoli partivano dalla Fiat Panda alla 500, alle Audi, alle Mercedes, alle Jeep, insomma c'erano tutte quante le gambe di veicoli. Una volta intascato l'importo dell'acconto, non è mai eseguito la consegna dei veicoli scelti dai clienti. Il flusso economico è stato ricostruito con un sistema di conti virtuali che erano in Germania e per questo si è reso necessaria anche un'attività di cooperazione sia sul canale polizia che sul canale giudiziario con le autorità tedesche e lussemburghesi dove è stato individuato il reale conto, i reali rapporti bancari, i rapporti finanziari accesi da alcuni degli indagati. L'indagine è partita nel 2020 a seguito di una denuncia di un imprenditore vastese, anche lui vittima della truffa. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata a frodi telematiche e autoriciclaggio.